prova a dire tigro e tigra chi ci riuscirà sicuramente timidi ci riesce ma se non parla ancora appunto lei è troppo piccola per parlare ma sono sicura che appena ci riuscirà la prima frase che dirà sarà tigro e tigra forse hai ragione chissà quando aggiungerà qualche altra parola al suo dolcissimo ucchio penso che dovremmo aspettare ancora parecchio perché davvero piccolina ma dite la verità non è adorabile con quella sua copertina gialla in testa sembra proprio un fantasmino sempre allegro e sorridente oh sì quella copertina le dona moltissimo timidi tiene il faccino nascosto perché un po timida ma vedrai che prima o poi arriverà a viso scoperto oh sì e allora sentirai quanti ucchio ucchio risuoneranno nella clubhouse sarà bellissimo i suoi ucchio ucchio sono così dolci mi è venuta un'idea perché non facciamo un ballo con questi ucchio ucchio sono sicura che piacerebbe a tutti quanti oui oui non perdiamo tempo dai e poi ci aggiungiamo anche un po di tiki 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 ok affare fatto pronti che parte la musica ciao ciao